Ultimi rintocchi del conto alla rovescia verso il 15 ottobre che porterà all'estensione delle Green Pass obbligatorio a tutti i luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato. Un non problema per un abbondante 80% degli abitanti della provincia di Pesor Urbino che hanno già completato la profilassia anti-Covid, una severa criticità invece per quasi 15.000 lavoratori pesaresi attualmente non vaccinati. Una fetta di popolazione che per recarsi nei luoghi di impiego con certificazione verde dovrà verosimilmente sottoporsi a tre tamponi alla settimana. Il governo nella serata di ieri ha emanato due DPCM con relative linee guida al provvedimento. Regole dalle quali si evince che chi sarà sprovvisto di Green Pass dovrà essere allontanato dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio fino all'esibizione della certificazione verde è considerato assenza ingiustificata includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso però l'assenza della certificazione verde comporterà il licenziamento. I DPCM prevedono che sarà onere del datore di lavoro o di suo incaricati la dinamica del controllo da effettuare tramite app e predispone anche maggiore flessibilità negli orari di accesso ai luoghi di impiego per ottemperare alle procedure di controllo. I controlli dovranno essere quotidiani e a rotazione in modo da coinvolgere l'intero personale. La violazione al mancato controllo comporterà per i datori di lavoro una sanzione fra i 400 e i 1000 euro. Al lavoratore che accede al luogo di impiego senza Green Pass si applica invece una sanzione compresa fra i 600 e i 1500 euro.